Una coltellata fatale che recide la orta toracica e spezza per sempre la vita di Michele. A sferrare con una furia cieca il fendente, suo padre si è accanito sul corpo indifeso del figlioletto e ne ha cancellato per sempre l'esistenza. L'esito dell'autopsia è inequivocabile. Niccolò Patriarchi, la sera del 14 settembre, nel corso di una furibonda lite con la compagna Annalisa, avrebbe strappato il bambino dalle braccia della madre, poi lo avrebbe appoggiato sul pavimento del terrazzo di casa e infine lo avrebbe colpito a morte con un coltello da cucina. Le coltellate inferte sarebbero state sei, tutte alla schiena. Quella mortale avrebbe parzialmente reciso la orta toracica. In un attimo un fiume di sangue su una storia brutta e nera come la pece.